Marco ha detto Ambro, che è il nostro carissimo amico, che però non può essere qua stasera, pomeriggio insomma oggi, quindi questo concerto l'ho dedicato a loro, senza di loro non esisterebbe questa band e di conseguenza saremo qua davanti a voi. Sarà il concerto benoce, grazie Luca, grazie alla famiglia Trusa Drac per averci accorti, tutte le band che se ne erano prima, tutte le band che se ne erano dopo, tutte le band che voi, e venga. Grazie a tutti. 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 Bellissima la situazione. Stragati dalla musica, delle band, dal pubblico. Però è nota per l'organizzazione. L'anno prossimo facciamo un piscinone. Tipo quella zona l'altra, tutti gli altri. Beh, scaviamo un bel massino d'acqua. Bagliamo una delle uniche cinque o quattro regioni non bagnate in questo paese. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh! 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 Orvi the one. Allora facciamo una cosa, apriamo una linea qua in mezzo. Ci separiamo tutti. Oh! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.